Riccardo Porra di Forextreme, che belle novità ci proponi quest'anno? Allora quest'anno abbiamo portato un po' di novità molto interessanti, nel senso che abbiamo l'omologa in esclusiva del Wrangler JK dove abbiamo modificato l'assetto, le gomme maggiorate, paraurti per uso gravoso, anteriore, posteriore e tutto nella più ampia legalità, più trasparente. Abbiamo esposto addirittura le carte di circolazione dove uno può vedere quello che è stato fatto, il lavoro è stato un enorme esporto per la nostra azienda però finalmente siamo riusciti a farlo, due anni di lavoro è stato un bel risultato. Siamo l'unica azienda oggi che può fare un'operazione del genere su questo veicolo. Questo per il passo lungo, benzina, corto, diesel, fino a un 2 pollici, gomme da 35, vericello, tutto quello che ci va e sempre nella legalità. Poi abbiamo portato un carrello per uso gravoso con la tenda che diventa 21 metri quadri e anche quello è una bella novità perché non l'ha ancora proposto nessuno in Italia e questo addirittura impianto elettrico, serbatoio dell'acqua, lavello, cucina, materasso a molle, verande, tutto pavimentato e tutto dentro il rimorchio per fare fuoristrada. Queste sono le novità più importanti. Poi abbiamo sempre la nostra linea di sospensioni, la Tuff Road è australiana che propone assetti dai più 50 ai più 200 mm per la maggior parte dei fuoristrada in commerciale. Queste sono le novità più importanti.